Alla cattura di Uxie Allora, adesso andremo a catturare Uxie Il Pokémon leggendario Alla cattura di Uxie Ed eccoci qui Questa è la grotta Questa qui Adentriamo Ora qui ci comparirà davanti Ecco, Uxie E combatteremo Si trova al livello 50 Uxie Allora, io ora uso una Master Ball Perché non mi va di combattere Ed è andato a segno Poi Hazelf che l'avevo catturato nel video precedente L'ho fatto salire fino all'80 Poi farò salire anche Uxie all'80 Ecco E boh, prima l'avevo interrotto all'improvviso Perché mi si era finita la batteria E ciao a tutti Votate e commentate Grazie 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 Grazie